insomma sappiamo che è una partita importantissima per noi una partita importante che ci siamo ci siamo guadagnati sul campo perché nessuno ci ha regalato niente abbiamo abbiamo fatto ottimi match in coppa perché insomma abbiamo battuto il genova poi siamo andati a vincere a milano con l'inter il doppio confronto con la roma quindi è un qualcosa che abbiamo voluto con tutte le nostre forze che che ci siamo guadagnati adesso la giocheremo nel migliore dei modi partite del genere penso che si preparano da solo da sole è normale che quello che ho chiesto che ho chiesto i miei giocatori quelli insomma di avere la mente libera di giocare con la con la solita umiltà che abbiamo giocato determinate partite e poi vedremo sul campo quello che succederà insomma sulla carta sicuramente la juventus è favorita però una partita secca a parer mio con la giusta interpretazione da parte dei miei giocatori può succedere qualsiasi cosa ma come si batte la juvelo noi dovremmo fare dovremmo fare la cosiddetta partita perfetta perché l'abbiamo incontrata già altre volte insomma nella partita di campionato all'andata qui a parer mio avevamo fatto un una buona gara non avevamo rischiato quasi nulla però insomma alla prima disattenzione ci fece gol che dira sul finale poi per quanto riguarda il campionato invece meritammo meritammo di perdere però insomma siamo qui a roma siamo nel nostro stadio sappiamo che metà sarà laziale metà sarà juventino però insomma noi giochiamo in uno stadio dove ci giochiamo abitualmente e quindi noi vorremmo fare una partita da lazio perché solo con una partita da lazio che ultimamente abbiamo dimostrato con qualsiasi squadra giocando da lazio possiamo giocarci anche la partita di domani la juventus è la juventus indipendentemente se domenica avesse vinto il campionato no è sempre la juventus io avevo detto nelle precedenti conferenze che avrei voluto giocare domani perché avrebbe voluto dire che insomma una squadra italiana ovvero la juventus fosse andata in finale di di champion quindi è un motivo per noi che siamo italiani siamo orgogliosi che la juventus sia in finale di coppa italia probabilmente qualcuno ha pensato ha detto che sarebbe stato meglio giocare alla fine del campionato ma secondo me siamo in un buon momento di forza la squadra ha consapevolezza dei propri nei propri mezzi e quindi penso che domani sia il momento giusto per giocare una partita di questo tipo